un nuovo piano. Il programma era semplice. Lei aveva una valigetta con i soldi del capo. Doveva portarla in un palazzo della zona e lasciarla nel montacarichi. Lei e il ricettatore non si dovevano mai vedere. Ordini del capo. Aveva paura potessero risalire a lui se quel borseggiatore fosse stato preso. In pochi si sarebbero fidati a lavorare con il boss. Quel ladro doveva sapere bene quello che faceva oppure essere un perfetto iota. Mia madre diceva sempre che al mondo ci sono solo due tipi di persone che puzzano davvero di fumo. I veri uomini e le donne pericolose. Controllati i soldi il ladro le avrebbe dato le indicazioni necessarie per recuperare i diamanti. Immagino che quello zuccherino fosse felice in quel momento. Avevamo deciso che la sera stessa avremmo lasciato la città con i diamanti. Nel suo futuro vedeva un marito fedele una villetta una station wagon nel dialetto. Purtroppo per lei quell'uomo non sarei stato io. E poi, come ho già detto aveva un nuovo piano. Il mio amico conosceva il ricettatore e si era offerto per fare lo scambio. Avrebbe preso i soldi e lasciato i diamanti alla donna. Diamanti falsi, ovviamente. Poi mi avrebbe raggiunto nel mio ufficio per dividere il bottino. Cazzo. Ormai lo sto aspettando da troppo tempo. Non sono più molto lucido. Ma sento che qualcosa non quadra. Ecco cosa sono. L'asso. Può essere la carta più alta ma anche la più bassa. Dipende da chi lo tiene in mano. Ma come? Chi? Cosa non ha funzionato? I fiammiferi. Quella troia mi li ha presi al bar e poi li aveva lui. Ecco perché era così ben informato sui diamanti e il resto. Quei due mi avevano fregato. Ero traditore ma sono stato tradito. Ero traditore mi ha preso ero tradito Vedi, l'amore è incompatibile con la verità, solo il dialogo muto con i propri nemici è sincero. Vedi, l'amore è iniziato, non aveva il tempo di lie, bang, bang, he shot me down, bang, bang, I hit the ground, bang, bang, that awful sound, bang, bang, my baby shot me down. Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione